Venite anche voi. Io sono Giorgio del mare e adesso vi porto al mare. Vado a prendere l'equipaggio, il team Si inizia così stasera qua a Pegli Rosi, comunque questo lo va a dobbiare e lo stappiamo a Genova Avete aspettato tanto ma domani credo si può assolutamente Credo si può dire che partiremo. Guarda quello che vedi. Io vedo l'orizzonte vedo la casa, la costa. Non posso neanche concepire che questo non si possa fare. Da un altro mondo ragazzi. Sembra Dave Marciano. Sembro Dave Marciano stavamo parlando del programma. Ecco si va nanna e lei il tuo letto è appena entri a sinistra Genova. Ora sei del mattino 6.05 per l'esattezza. che oggi ci accompagnerà in una nuova avventura. Il vento è lieve, il mare è piatto che così non l'avevo mai visto. C'è già caldo qua alle sei di mattina e io sono pronto per partire. A bordo c'è Manuel, poi c'è Massimo e di fronte a me c'è il mare. La Sardegna laggiù, Portofino, dietro quel promontorio vedete dove io ho il dito. Quello è Portofino. E poi la nostra meta da prodo, la nostra meta d'arrivo. L'arrivo in porto non sarà facile. Con la mia barca c'è poco spazio e dovremo essere bravi stavolta a manovrare. Però sono decisamente voglioso e pronto per questo. Questi rumori sono quelli che mi hanno accompagnato per tutta la notte e che accompagnano gran parte delle mie giornate, delle mie nottate e che danno la colonna sonora alla mia vita e anche al mio canale. Che potete sostenere, se volete, prendendo queste magliette, vi giro il link in descrizione, per aiutarci, non so, anche se le idee sinceramente negli ultimi giorni si moltiplicano, si susseguono e la voglia di mare aumenta. un secondo profondo e scissa con danno la visione si fragilista, mother e morito colonnaale. E' un ermoglio, davantiglio? Why? A volte ciò che ci viste. I tanti. giusto un piccolo branzino perché la colazione mancava un complimenti a claudio che bello pescatori guarda la faccia la faccia dei pescatori c'è l'ora di spurgo ci sono non mi voglio rientrare però abbiamo lavorato tutto il giorno per sistemare ancora la barca, sono sceso sotto la barca con la muta per pulire quella poca alga che si era rifatta da quando l'ho pulita perché erano passati già queste mezzo e neanche oggi sembra che posso fare questo trasferimento la tempesta ci ha sorpreso perché ci ha sorpreso anche le previsioni, tutte le app del meteo mi hanno aiutato lui, Claudio mi ha aiutato i miei amici come due della serpente con grande disponibilità mi hanno aiutato però poi ci si è messa la tempesta al vento e immagineremo ogni volta essere pronti per partire, fare mille chilometri, mille strumenti intensi di lavoro e poi all'ultimo secondo quando stai in piedi e c'è il solutore succede questo vita da marinaiosi i miei ziii le persone che hanno vissuto il mare il mio lavoro mi raccontavano sarà anche questo che mi affascina l'imprevenibilità del mare mi ha sempre affascinato perché sono anche io imprevedibile con questo ci assomigliamo perché se non sono immenso come lui il mio senso di libertà è immenso quanto lui però i piatti sono giù sotto coperta io non voglio scendere me ne voglio stare qua dovevo dormire ieri notte a discutere con questo temporale di ciò che ha intenzione di fare ancora nelle prossime ore la clessidra ti corre sempre dietro il tempo ti corre sempre dietro mi sto preparando uno spettacolo a Bolzano se no rimarai qua fino a quando il tempo si decide ad aprirmi una finestra che mi concedano che mi concedano questo primo step della mia grande avventura ma non è ancora che sono venuto quattro volte e quattro volte ho dovuto rinunciare non lo so non lo so credo del destino ti ho sempre creduto vuol dire che non lo so guardate la velocità di queste nuove appassionato romante malinconico i miei sogni prendono ancora più colore oggi il viaggio era praticamente definito si davanti al sud ovest scusate quindi sarei andato contro vento ma con una bolina con una bolina stretta sarei riuscito comunque con un po' di bordi ad arrivare a destinazione con un tempo la tornevo ahhh non è riuscito questa terpesta non è riuscito dobbiamo rimandare solo di qualche giorno io sono Giorgio e il mare non smetto di esserlo ragazzi la tempesta non ci ha permesso di partire oggi va bene accettiamo partiremo domani dopo domani la libertà ha un valore imprescindibile quindi siamo liberi di partire quando il mare che è il capo deciderà che dobbiamo partire grazie per aver seguito questo bel video ci siamo divertiti tantissimo e mi raccomando ok? mettetemi un like un commento perché così la nostra community diventerà ancora più importante e grande eravamo pronti a partire da stamattina alle 5 mi sono alzato ieri mi avete visto andato andato a nanare 3 penso sopra il ponto ho dormito un po' e poi ho dormito in un armatoriale non bene di più con la consapevolezza che era tutto perfetto per partire ma non è mai perfetto ma non è mai perfetto se fosse perfetto noi non lo faremo questo amico mare mio ha un carattere così simile al mio la mia stima aumenta ancora di più per il mare è il suo modo di imporsi di affermare che esiste e di affermare quanto sia decisiva ogni sua iniziativa ogni sua iniziativa quanto sia quanto sia determinante ogni suo modo da agire perché è immenso perché è potente perché non è un semplice elemento della natura perché è parte dell'universo perché è parte del destino e quindi lui è uno degli autori del tuo destino uno dei fattori determinanti per quello che sarà il tuo domani l'importanza del mare è indiscutibile è indiscutibile l'equazione è semplice il mare è la vita e la vita è il mare la vita sono io e quindi il mare sono io non posso che pensare all'interno non posso che pensare all'interno